Bentornati su Denot, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda... L'unbox e gestione per quanto riguarda il codex supplemento dei Blood Angels, Ange Sanguinari, per Warhammer 40.000, decima edizione, Legatan. Lo so, avevo detto che non ero deciso se prenderlo effettivamente, ma l'ho trovato a un prezzo scontato tale che mi sono deciso effettivamente a dargli una possibilità, cosa che ho fatto male. E devo dire alcune cose prima di cominciare l'analisi effettivamente del codex. Prima di tutto, per poter usare questo, ricordate che avete bisogno anche del codex Space Marine, questo è quello di decima, eventualmente ho fatto sia l'unboxing che l'analisi delle regole, quindi trovate tutto in descrizione se siete interessati. E altra cosa che voglio considerare è quello che è la copertina, perché di per sé non è male, peccato che sia la stessa di quella di Nona, semplicemente ingrandita. Potete vedere tutti i dettagli esattamente la stessa, soltanto zoomata. Quindi, ok. Ed è una cosa che non mi piace, perché ad esempio qui rimangono ancora gli angeli sanguinari con la guardia sanguinaria, ma con le ali. E voglio ricordare che le hanno tolte. Quindi i nuovi modelli lasciati proprio con l'uscita del codex non hanno più le ali. E non è l'unica volta che c'è all'interno del codex questo problema. Quindi, ok. E poi, sinceramente, ma fate una nuova cover. Scusate, perché dovete riprendere la stessa cover che avete fatto precedentemente, con l'aggiunta semplicemente di un simbolo da lato qua dietro? Avete una marea di immagini. Usate una diversa. La cover mi piace di per sé, ma è semplicemente la zoomata di quella precedente. Mettetene un'altra. Non è possibile una cosa del genere, veramente. È. Questa è pigrizia. È una cosa che non sopporto, perché vuol dire rovinare un qualcosa. Avete immagini. Usatele, perché veramente avete la possibilità. D'ogni modo, ora andiamo a vedere meglio quello che è il contenuto all'interno, per vedere effettivamente cosa c'è e cosa merita di essere guardato. Qui possiamo trovare le solite facciullanti, che sono per i vari codex. Ok. Qui possiamo trovare questa, che è praticamente l'introduzione di copertina per quanto riguarda il codex del Bradenz. E sinceramente l'avrei preferita come copertina base, perché sarebbe stata quantomeno nuova. Ok. È un po' un peccato che si è messo in questo modo qui. Qui possiamo trovare quella che è la parte dei contenuti, quindi possiamo trovare la parte del background, lo showcase, quindi mostrare le miniature, la combat battle, le forze di Bradenz, quindi la parte per quanto riguarda il 40.000, le crociate e la parte dei punti. Punti che sono completamente inutili, perché 16 ottobre 2024, quindi prima addirittura del rilascio ufficiale di questo libro, perché non conta l'armistat, conta questo. Sono stati rilasciati le nuove focche per quanto riguarda i Bradenz e anche il monitoron, che cambia totalmente i punti per quanto riguarda questo codex. Quindi praticamente una parte del valore di questo codex è completamente annullata, perché già i punti inclusi in questo non sono più validi prima ancora dell'uscita dello stesso. Ok. Ad ogni modo va ricordato che i punteggi cambieranno ancora in futuro, quindi non è quello il problema. Quello che è problematico è il fatto che sono stati modificati ancora prima che la stampa sia stata rilasciata. Quello effettivamente li ha salutati parecchio. Qui possiamo vedere una bellissima immagine retro, ma sempre bella da vedere, mi piace davvero tanto per quello che richiama. Qui possiamo vedere quella che è un'armata di Blood Enders con tutti i modelli che possono essere schierati, che va contro i tridi, quindi perfettamente a tema. E possiamo dare anche i nuovi modelli nel mezzo, quindi ottimo. Qui possiamo vedere quello che è molto interessante per quanto riguarda una sorta di novella che prosegue per tutto il libro andando a svilupparsi. E possiamo vedere Sargent E.Cossima che ha la sua storia, la sua classica giornata vita da Blood Enders e quindi come pian piano si sviluppa. È una cosa che secondo me è anche molto interessante. Qui abbiamo praticamente la descrizione di quelli che sono i Blood Enders e questa, quella che è un'immagine che viene praticamente dalla... Almeno dalla terza edizione ed è fantastica, me l'ho sempre adorata come immagine, è veramente molto molto bella. Poi qui possiamo vedere quella che è praticamente la genesi dei Blood Enders, quindi come si va a creare un Blood Enders di per sé. Qui possiamo vedere che la battaglia di Armageddon ha una descrizione, quindi anche qui è molto interessante. Questi capitoletti qui a fianco in tutto il Codex c'è sempre qualcosa di nuovo e interessante, non è male. Questa è un'immagine che in realtà non è niente nuova perché l'abbiamo visto quantomeno nel Codex precedente, quindi sono tante immagini riciclate. Poi possiamo vedere questa parte che per quanto riguarda le tare di Blood Enders, quindi quella che è la sete rossa e la rabbia rara, quindi anche qui è molto interessante. E qui è molto interessante perché c'è il background che ad esempio mi permette di essere aggiornato perché mostra l'incontro praticamente tra Dante e Lionel Jogson, che è il primarca dell'Archanges ed è qualcosa che era associato a una campagna a cui aveva fatto uscire lì prima che sinceramente non avevo preso, quindi è molto interessante avere qualcosa che assume. Ecco che in questo caso vediamo che Dante è effettivamente tra i pochi ad avere effettivamente incontrato e aver avuto l'approvazione di due primarchi, al momento disponibili per quanto riguarda l'Imperium, perché abbiamo visto che con quella che è la parte finale dell'invasione dei Tiraidi su Baal, poi ha incontrato Gilliman che praticamente l'ha reso anche il regente di l'Imperium Nillus, quindi di metà praticamente dell'Impero, e poi ha incontrato anche Lionel Jogson che l'ha piaciuto tantissimo. In un certo senso questo è molto ancora più peculiare, se pensate che eticamente con l'eresia di Horus c'era stato un trittico tra quello che era Gilliman, Lionel Jogson e Sanguinus per creare l'Imperium Secondus. Quindi in un certo senso, calcolando che praticamente sia metà dell'Imperium sotto la regenza di Dante, si è riformato. Quindi, ok, è interessante vedere queste cose qui. Questa è un'immagine molto bella, che abbiamo visto già in passato, e che è la cover alternativa dell'edizione uscita con l'Armyset, quindi anche questo molto interessante. Qui possiamo vedere quella che è la parte per quanto riguarda la parte per l'Imperium Nillus, quindi come Dante sta gestendo tutto, non è fatto male. Qui possiamo vedere il Baal System, quindi quello che è il sistema di Baal. Voglio ricordare che ho fatto anche l'analisi di quelli che sono stati per la campagna della Leviton, quindi del fatto che la Leviton, la frotta di invasione di T-Hind, sia passata prima per Cryptus e poi per Baal, per cercare di distruggerlo. E quindi trovate eventualmente in descrizione la parte, perché secondo me può essere interessante per vedere un po' di background creativo. Quindi questo è praticamente come si va a sviluppare. E poi qui possiamo vedere il background che avanza, e questa è molto interessante, questa parte specifica, perché vi spiega perché ci sono così pochi e nuovi modelli di guardia sanguinaria. Perché effettivamente la guardia sanguinaria precedente è stata anniettata. Quindi semplicemente si sono rifatte le nuove armature con quelle nuove disponibili. Ok, però le ali potrete mettercele, e vedremo che tornerà spesso la cosa. Comunque, quantomeno, questo porto avanti un po' di background. Questa è una bellissima immagine che abbiamo già visto parecchie volte, perché è quella di Spesulke, proprio quella della confezione di Spesulke. Immagine che personalmente adoro tantissimo, quindi ok, fantastica. Qui possiamo vedere questa, che è un'immagine fantastica, ma io vi vorrei far notare una cosa. E che sono le figure erate. Sono guardie sanguinarie. Quindi, ok, ancora e ancora, che questi Arthur richiamano dei modelli che praticamente non esistono più. Spero sicuramente che le modifichino quindi noi, perché non è possibile. Non mi piacciono per nulla. Questa possiamo vedere che è l'Angelicos, quindi la composizione del capitolo dei Blood Angels. È praticamente la stessa che abbiamo visto anche nel codice precedente. Ma questo effettivamente dobbiamo tenere conto che adesso che Dante praticamente ha richiamato tutti i capitoli successori dei Blood Angels e che governa praticamente Mezzo Imperium Questa è relativa, perché tecnicamente può rimpinguare e ha una legione alla sua chiamata. Quindi ci sta, però alla fine fin dobbiamo ricordare che appunto non è esattamente così semplice in questo caso. Però qui abbiamo la parte per quanto riguarda la Dead Company, quindi quello che è lo sviluppo, come si comporta o altro. E sinceramente lo apprezzo parecchio, perché è un modo per spiegare un po' meglio. Qui poi questo che è un artwork che se vi ricordate lo avete già visto, perché è quello, in questa zona qui, che abbiamo visto con l'Army Set del Codex dei Blood Angels. Quindi è fantastico. Ma io voglio ricordare che possiamo vedere qui cosa? Di nuovo, Angeli Sanguinari, la Guardia Sanguinaria con le ali. Ok, di nuovo. Va bene, ripeto, è sempre un peccato vedere queste cose qui, perché l'immagine è fantastica. Però può però vedere che rilasciano comunque le immagini con modelli che non sono disponibili. Poi qui possiamo vedere che la storia per quanto riguarda l'assigente Cosima si sviluppa e cede alla rabbia nera. Quindi si vede che però non è nel fulvore della battaglia, prima della battaglia, ma è un momento un po' tranquillo. Quindi è interessante proprio perché non avvenendo in quello che sono momenti di stress, mostra proprio quella che è la vulnerabilità a questa tara per quanto riguarda la battaglia nera. È un racconto che sinceramente lo apprezzo molto, è veramente sviluppato molto, molto bene. Per cui possiamo andare a vedere quella che è l'esemplare della schiara. Quindi praticamente quello che sarà Sanguino, quello che sarà il Sanguino del Priest, la Guardia Sanguinaria, il fratello Corbulo. Per quanto riguarda il Sanguino non sappiamo ancora bene l'origine, non viene spiegato ancora qui. Per quanto riguarda Corbulo è citato ma non è presente, vedremo dopo che non c'è la datasheet a riguardo. È un po' complicato in questo senso. E poi vediamo quello che è un po' di background con i vari modelli che sono i maestri di quello che è il capitolo. Quindi abbiamo Dante, Mephiston. Io sono ancora convinto che Mephiston, quando era Calistarius, fosse quello che abbiamo visto con Space Hulk perché è lo stesso nome. Spero non sia un monimia perché sembra veramente un collegamento fantastico. Per Dante invece ormai è talmente tanto background che ne manca un pezzo. Quindi è un po' complicato perché era sempre bello rileggere un po' la storia anche di Dante. Andiamo a vedere quello che ha Astro. Questo è fantastico e sinceramente come background lo apprezzo. Non mi piace come è stato introdotto, quindi non apprezzo il modo in cui è stato introdotto e cosa fa. Però effettivamente è figo. Qui abbiamo le Martes con questo che è praticamente l'incarnazione del modello precedente a quello rilasciato recentemente che sinceramente non apprezzo per nulla, non sopporto. Poi abbiamo qua la parte per quanto riguarda l'iconografia, quindi come andare eventualmente a modificare e dipingere quelli che sono i brand managers. Credo che sia molto interessante e permette effettivamente di vedere tutte le varie colorazioni. Poi andiamo a vedere quelli che sono i capitoli successori. Anche qui molto interessante, c'è un piccola parte con il background relativo, quindi permette di capire effettivamente meglio a riguardo. E' molto intrigante, anche perché voglio ricordare che una parte dei capitoli effettivamente è stata distrutta completamente con l'invasione dei tiraidi. Un'altra parte è al limite, ma comunque sono tutti ormai presenti, quindi è molto intrigante da vedere proprio un po' il background. Ci sono anche le Martes che sono sempre un qualcosa di particolare, molto interessante. E qui possiamo effettivamente vedere quella che è la fine, volendo, di quello che è Stagente Cosima. E come si va a sviluppare quella che è la parte finale della sua vita. E' qualcosa che sinceramente credo sia molto molto interessante. E' qualcosa che assorbe notevolmente la lettura di questa parte, perché proprio mostra l'impatto emotivo che si può avere. Non male. Questa è un'immagine un po' classica, ricolorata per quanto riguarda i brand managers, quindi non male anche questa. E poi andiamo a dare quello che è lo showcase, quindi per mostrarle quelle che sono le miniature disponibili per quanto riguarda i brand managers, attualmente disponibili, quindi sempre interessante. Mi piace anche che ci siano queste parti che aggiungono quantomeno un po' di background. Questo è il modello nuovo di Prete Sanguinario, che sinceramente quando ho visto avrei preferito fosse Corbulo, perché mancherà in questo codex. Ed è un qualcosa che secondo me è un peccato. Questo modello che è Capitano, ok, sinceramente se ne può fare anche meno. Se dovete prendere questo, vi consiglio eventualmente di andare nella Guardia Sanguinaria nuova, piuttosto perché non è possibile questa cosa qui. Vediamo che c'è il Dreadnought della Compagnia della Morte e vedremo che manca anche quello normale, ma discuteremo meglio. Questi hanno già stato introdotto recentemente, sono Mephiston e Dante, ok. Qui abbiamo la Guardia Sanguinaria senza ali. Ed è un qualcosa che continuo a dire, non sopporto perché sinceramente, dobbiamo avere il mio avviso. E poi passiamo a quella che è la parte per quanto riguarda la Compagnia della Morte. Qui abbiamo il nuovo Lemartis, che personalmente non apprezzo, era decisamente migliore quello precedente. Non capisco perché lo abbiano fatto con questa cosa qui. Astorat, ho il modello precedente, quindi non sono interessato a prenderlo, però non sarebbe male. Semplicemente che ho già quello prima, quindi non trovo la necessità di averlo un altro. E poi qui possiamo vedere uno scontro tra quelli che sono i Bad Angels contro i Night Lords. E sarebbe molto interessato a dare questi scontri, a mio avviso. Poi passiamo a quella che è la Combat Pattern. Questa è un'immagine praticamente del Codex di Quinta. Ok, quindi anche questo molto intrigante. Poi possiamo vedere quella che è la parte per le regole per quanto riguarda la Combat Pattern. Quindi con l'aspirata e così via. Che sinceramente ok, ci sono. Poi qui abbiamo quello che è come dipingere, che secondo me è sempre molto intrigante da vedere. E poi abbiamo qui la parte per quanto riguarda le regole per la Combat Pattern. E ok, semplicemente se vi piace usatele. Sinceramente non gioco a questo tipo di opzione. Qui possiamo vedere l'immagine della guerra sanguinaria con le ali ancora. Poi troviamo quelle che sono le regole per l'edizione normale di 40.000. Quindi ok, ci sta. Questa è l'immagine che possiamo vedere. È quella di copertina semplicemente più larga ed è quella del Codex T9. Come avevo già detto. E poi andiamo a vedere quelle che sono le regole di armato. Qui possiamo vedere queste che praticamente non sono cambiate molto rispetto a quelle che erano già presenti nel Codex PDF. E devo essere sincero, non andrò a fare analisi dettagliate per quanto riguarda le regole perché non ho trovato finalmente questo Codex Invitante a riguardo. E ok, sinceramente questo proprio mi ha deluso. Qui possiamo trovare quella che è la Liberator Assault Group. Che praticamente è la versione base per giocare i Bra Dangers. E non è male. Questa è sempre la parte che permette se si carica di avere più attacchi e forza. Ma se andiamo a vedere per esempio qui. Due sono di questi qua, che sono gli Enhancements. Sono disponibili solo una volta per battaglia. Cosa che non mi piace affatto. Per quanto riguarda la parte per gli statagemmi, sono anche molti interessanti. Abbiamo il classico Armor of Contempt che è sempre presente. E anche gli altri sono sempre molti interessanti perché se si decide di finire col Battleshock si ha comunque un'opzione aggiuntiva tra cui uscire. Quindi secondo me c'è sempre qualcosa di intrigante. Permette di adeguare molto lo stile di gioco, quindi mi piacerebbe in questo senso. Poi abbiamo visto se prima per quanto riguarda quelli che sono i Bra Dangers classici. Qui possiamo trovare quella che è la parte della Death Company. Quindi creare un'armata basata sulla Death Company. Così tanto che se si va a prendere le regole qui si permette di avere come battle line proprio un'unità di Death Company. E all'altro sì, più sono danneggiate più guadagnano potenza. Quindi non è fatto male. E anche la parte per quanto riguarda sia l'Enouncement che per gli Stato Gemmi va a caratterizzare molto proprio questo tipo di armata. Quindi se vuole caratterizzare questo permette di farlo in un modo molto intrigante, molto interessante. Poi abbiamo la parte per quanto riguarda l'Angeli Coast. Possiamo associare volendo alla Guardia Sanguinare ma in realtà a tutti quelli che sono dotati di reattori dorsali. Quindi se abbiamo visto come prima quelli che sono i normali Angeli Sanguinari in assalto. Poi abbiamo visto la parte dei Manny Black quindi con la Death Company. Questa è per la parte reattorata. Quindi una delle classiche liste basate principalmente sui reattori. Tant'è che se andiamo a prendere gli Stato Gemmi e li combiniamo con l'abilità base vanno ad avere una sinergia molto intrigante. Quindi è interessante questo senso. Poi andiamo a vedere quelle che sono le Date Sheet con Mephiston che ci attende alla soglia. È sempre meraviglioso. E andiamo a vedere le Date Sheet velocemente. Ecco che Dante è finalmente diventato qualcosa di serio e decente. Come sempre Sanguinore e Mephiston non si possono aggregare le unità. E ci starebbe anche. Quindi sono sempre dei pezzi singoli. Poi andiamo a vedere per quanto riguarda. Qui abbiamo Astraloth. Abbiamo le Martes. E passiamo al Space Marine Capitano. Ok non ho mai apprezzato questo nuovo modello. Sinceramente usate qualcos'altro. Sinceramente trovate meglio. O lo personalizzate e realizzate qualcosa di sicuramente superiore. E poi abbiamo questo che è quello della Death Company. Il Capitano. E lo vediamo che sia a piedi che coeratori. E già qui lo trovo abbastanza inutile fare due Date Sheet completamente differenti. Perché alla fine l'unica vera differenza è che un aeratore uno no. Tanto secondo me i punteggi li devi dare comunque. Basta semplicemente mettere con o senza e cambiare un attimo il punteggio. Non ho capito moltissimo questa cosa qui. Ma va bene. Ok. Poi vediamo il sangue di Cristo. E possiamo vedere che manca Corbulo. E' totalmente assente. Ed è anche qualcosa che sinceramente mi dispiace. Perché è uno dei capisaldi per quanto riguarda i Blood Enders. Quindi non averlo. Ok. Non mi convince di tutto. Devo essere sincero. Poi abbiamo la Sangue di Guard. Abbiamo qui quello che è la Death Company Marines. Quindi qui con i Blood Rifle che trovo assolutamente inutile perché abbiamo questi e poi abbiamo anche senza e ok perché basta mettere gli equipaggiamento diverso. Non lo so guardate non lo so veramente. Qui abbiamo quei Jumpex quindi per fare la stessa unità con semplicemente un leggero equipaggiamento diverso. Tre unità con datasheet diverse. Ok va bene. Non è proprio il massimo. Poi qui vediamo quello che abbiamo il Death Company Drydenoth. E manca il Drydenoth Furioso. E ok potreste dimmi sì ma tanto c'è l'equivalente nel Codex Preach Marine. Sarebbe stato ripetitivo. Ni. Perché comunque il Drydenoth Furioso è sempre stata prerogativa The Bad Enders. Non sono sempre tutti loro ad averlo. Quindi dateli almeno la datasheet con qualcosa di particolare per rimpolparlo. Oltretutto manca anche il Drydenoth Librarian che è un problema perché era un modello che era molto intrigante. Ma ora non c'è più. Quindi ok sinceramente parecchie cose mancano qui. Niente abbiamo poi il classico Predator Ball. E poi passiamo direttamente a quelle che sono le regole di crociata. Questo che è un'immagine fantastica che viene da seconda edizione con la Death Company che è guidata dal primo modello di le matis. Che personalmente ancora lo apprezzo tantissimo. È sempre molto bello. E qui poi le varie regole per quanto riguarda la campagna che sono sempre molto interessanti per chi la gioca. Qui secondo me vale sempre la pena anche per chi non è interessato di andare a vedersi un po' del background nelle righe in mezzo. Perché ha sempre qualche intrigante parte da leggere. Non mi dispiace affatto. Quindi ok sinceramente non è chissà che ma ci sta. E poi abbiamo qui alla fine quello che è la parte per generare i nomi per il Blattennis. Questo come ci sta. C'era anche nelle precedenti cose quindi non lo trovo niente di particolarmente eccesso. E qui la parte per quanto riguarda i punti che sono totalmente inutili. Perché il 16 come avevo detto di ottobre 2024 assieme alle FA che è stato rilasciato anche in monitario. Ma che ha cambiato quelli che sono i punteggi di questo codex. Codex che è stato rilasciato 19 ufficialmente. 19 ottobre 2024. Quindi prima ancora dei rilascio. Perché effettivamente va contato questo non l'Armiset. Perché l'Armiset è un'anticipazione ma è questo quello che conta. Perché tecnicamente non si è potuto giocare con l'armata dell'Armiset. Quindi dovete tenere conto che i punteggi che vi mostro ora ecco che sono totalmente non pervenuti. Perché questi sono da buttare ancora prima che possiate averli presi. Perché se non avete preso l'Armiset o anche se l'avete preso non sono più validi. Ma sono stati cambiati prima ancora che poteste acquistare il codex. Quindi praticamente questo è un qualcosa che per me non va bene. Tanto vale fare come si fa per la quarta edizione di Ejosima in cui i punteggi sono separati. Sono pubblici quindi si possono avere gratuitamente. E non c'è più questo problema del dovere di adattare ogni volta. Perché effettivamente se tanto me li cambi prima ancora che io possa acquistare il codex in cui sono inclusi. E sono quindi sbagliati è totalmente inutile. Quindi questo codex per questa parte è completamente insensato. Non ha senso perché è come se non ci fossero. E poi qui c'è il codice che vi mostro che è per mettere con la registrazione sul sito di Warhammer e quindi poterlo effettivamente utilizzare. Quindi dato che sarà poi, se troppe vuole sparire dal codex PDF, quanto meno si potrà sfruttare. Quindi abbiamo l'immagine di retto copertina che riguarda il capitolo dei pretensi che non è fatto male. Quanto meno è cambiata rispetto a quello della non edizione come codex. Quindi che dire di questo codex? Allora, se intendete giocarlo è un must have. Altrimenti pensateci. Perché sinceramente mi pento un po' di averlo preso. Allora, se è chiaro che sapevo esattamente dall'inizio a cosa andavo incontro. Quindi l'ho preso sapendo esattamente cosa c'era dentro. D'altro canto dobbiamo andare a vedere che ci sono meno datasheet di quelli precedenti. Perché hanno tolto delle unità. Il background c'è qualcosa in più di aggiornato perché è età. Ma non è così completo come speravo. Quindi c'è qualcosa che secondo me latita un po' a livello di background. Se andiamo a vedere per quanto riguarda i punteggi. Sono stati cambiati prima ancora dell'uscita ufficiale. Perché voglio ricordare che non conta l'armistat. Ma questo codex a rilascio. E questi sono stati cambiati di punteggi prima ancora del rilascio stesso. Quindi non è una cosa che ho apprezzato particolarmente. Le FAQ ci possono stare perché è un piccolo cambiamento di sistemare. Alcune cose sono piccole e molto dettagliate. Per cui non è un problema. Quindi effettivamente se serve per il gioco è un must have. Ovviamente perché se serve per giocare questo si deve avere. Personalmente io ho collezionato tutti i codex dei Burned Dungeons dalla terza edizione in poi. Quindi questo è un modo anche per completare ed averli un po' tutti. Ma d'altro canto se dovessi valutare il valore di questo. Codex ci devo pensare un attimo. Devo ammettere che in generale non sto apprezzando particolarmente tutta quella che è la decima edizione. Perché la trovo veramente incasinata. Perché abbiamo il regolamento. Che per quanto riguarda i 40.000. Abbiamo le FAQ per il regolamento. Che ormai sono arrivati a essere più di metà delle pagine del regolamento stesso. Abbiamo il Codex Space Marine. Le FAQ del Codex Space Marine. Questo Codex. E poi le FAQ del Codex. Perché in realtà le FAQ dei due Codex per fortuna non sono tante. Però comincia ad essere tanto materiale da avere tutto assieme. Per poter effettivamente andare a sfruttare il Codex stesso. Quindi comincia ad essere un po' eccessivo a mio avviso. Soprattutto perché ripeto. Questo è stato modificato ancora prima. Praticamente del rilascio. Cosa che mi ha dato particolarmente fastidio. È comunque in situazione migliore. Di quelli che sono stati in molti del Codex precedenti. Rilasciati. Quindi mi va ancora bene. Allo stesso tempo non mi va bene che venga fatto questa cosa. Quindi se voi volete giocare i Bad Angels. Questo è un must have. Punto. Perché vi stavano le regole. E qua ci sono. Allo stesso tempo trovo abbastanza un po' non granché questo non essere precisi. Quel fatto che esce un Codex ed è stato cambiato prima ancora. Che possa essere utilizzato. Perché comunque i soldi si sono usati. È un po' una cosa che non mi ha convinto nel tutto. Ditemi cosa ne pensate voi. Se siete contenti. Lo prendete solo per il gioco. Solamente se lo prendete per giocare. Prendetelo. Se lo prendete perché lo volete avere. Pensateci. Ad ogni modo. Da Dynamode è tutto. Vi invito a iscrivervi al canale. A suonare la campanella per ricevere notifiche per quanto riguarda nuovi video. A commentare qui sotto per quanto riguarda questo video. O se volete suggerirmi per quanto riguarda nuovi video a cui potreste essere interessati. Spero di rivedervi presto. Alla prossima.